what day a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovo video giustamente qualcuno di voi negli ultimi dieci giorni credo più o meno ha notato che sul mio canale non c'è più tanta continuità e che quindi non sto caricando video appunto in maniera assidua e comunque costante sembrerebbe che io abbia interrotto per esempio la serie su doki doki che comunque stavo continuando appunto per cercare di ottenere il good ending insomma cose che già sapete quindi qualcuno di voi mi ha chiesto cosa stia succedendo quindi per quale motivo appunto io non sia più così tanto costante in quest'ultimo periodo mi sento comunque un dovere diciamo così di dare una spiegazione più che altro a quelli che appunto sono affezionati al mio canale e che comunque guardano sempre con costanza i miei video sento comunque appunto di voler essere sincera con voi e non voglio insomma negarvi che la mia preoccupazione attuale perché ragazzi appunto il fatto che io non pubblichi video è legato a una mia preoccupazione e quindi la mia preoccupazione attuale è sicuramente legata purtroppo ragazzi all'emergenza che il nostro paese sta vivendo attualmente emergenza che tutti quanti noi ovviamente conosciamo penso che non ci sia più nessuno insomma che non lo sappia anche perché ormai i mezzi ragazzi per saperlo sono tantissimi ovviamente emergenza ragazzi che riguarda questo benedettissimo coronavirus ci tengo appunto a precisare che la mia preoccupazione non è di tipo sanitario diciamo così nel senso che non sono preoccupata del fatto che io possa prendere il virus quindi non ho paura del virus di per sé ragazzi ma la mia preoccupazione è legata ovviamente al lavoro al nostro lavoro ragazzi perché sapete tutti quanti che io e rodrigo perché non lo sapesse insomma lo verrà a sapere adesso che io e rodrigo lavoriamo in un ristorante e quindi il virus insomma questa diffusione questo contagio che è avvenuto che sta avvenendo che comunque si sta ancora sviluppando ragazzi nel nostro paese fa sì che ovviamente la gente non esca come giusto che sia mettiamo le mani avanti quindi se la gente non esce come giusto che sia i locali per quanto comunque provino magari a stare aperti provino ovviamente ad attuare le misure di sicurezza sanitarie obbligatorie attualmente ovviamente clienti ragazzi non non ci sono e quindi se non ci sono i clienti le attività ragazzi non hanno ingressi e quindi se le attività non hanno ingressi i datori di lavoro non hanno guadagni per questo l'attività non guadagna per cui i dipendenti di questi datori di lavoro non guadagnano quindi fondamentalmente è un guaio ragazzi è un guaio quindi la mia preoccupazione è legata a questo è legata al fatto che purtroppo ragazzi dobbiamo un attimo vedere come si evolverà questa situazione perché è vero che attualmente in abruzzo ci sono tipo 25 casi se ne sono scoperti altri 7 giusto oggi se non sbaglio quindi non sono tantissimi però purtroppo ce ne sono 3 o 4 credo insomma sono stati scoperti ragazzi dei casi anche qua vicino e quindi non vi dico precisamente dove insomma per non rivelarvi dove stiamo di preciso per una questione di privacy ovviamente però vi dirò che da quando si è scoperto che ci sono questi casi insomma giusto qua vicino abbastanza qua vicino probabilmente già da quel momento lì le persone hanno cominciato a insomma comportarsi di conseguenza diciamo così perché fino a quando ragazzi ovviamente magari ci sono stati dei casi che però erano lontani da qui abbastanza lontani e fino ad allora diciamo che giornate hanno continuato a svolgersi nella totale normalità quindi comunque la gente usciva la gente diciamo che era ancora abbastanza tranquilla e quindi ovviamente il nostro ristorante ancora lavorava bene lavorava come sempre più che altro diciamo così e quindi preoccupazione più di tanto non ce n'era anche se ovviamente sappiamo tutti benissimo ragazzi che il nostro stato oramai è in stato di emergenza quindi comunque un pelino di preoccupazione sempre c'è stato però sapete fino a quando magari la cosa non ti tocca poi tanto da vicino non ti fai più di tanto condizionare nella tua vita e quindi fino a questo momento ragazzi le cose sono hanno continuato a procedere normalmente da quando appunto si è scoperto che c'è stato ci sono dei casi anche qua vicino le cose hanno cominciato ovviamente a cambiare quindi ragazzi il mio pensiero sta lì sta lì perché dovremo preoccuparci ovviamente del virus di per sé adesso non voglio fare ragazzi dissertazioni mediche non voglio stare ad entrare nel merito comunque della natura scientifica di questa cosa perché non sono nessuno io per fare considerazioni ovviamente se ne parla ragazzi se ne parla ovviamente si fanno considerazioni in base alle cose che si sentono che si leggono e forse se ne parla purtroppo senza saperne poi più di tanto in effetti però credo sia normale che ognuno di noi si faccia un'idea diciamo così anche se bisogna dire che purtroppo anche i mezzi di informazione ragazzi non sono sempre molto coerenti perché e anche chi diffonde notizie diciamo così perché c'è chi dice una cosa e due ore dopo un altro smentisce quella cosa e dice che il contrario quindi le informazioni che riceviamo sono pure molto ragazzi confuse non ci permettono di avere un'idea effettivamente chiara di quello che sta succedendo e quindi forse non dovremo preoccuparci più di tanto del virus di per sé anche se ovviamente è importante preoccuparsene nel senso che bisogna fare in modo che questo virus non si espanda più di quanto ha già fatto anche se ormai la vedo un pochettino dura per certe cose che sono successe ma quello che secondo me dovrebbe spaventarci di più ragazzi appunto quello che questo virus non tanto sta facendo agli esseri umani proprio fisicamente parlando ma quello che questo virus sta facendo ragazzi al nostro paese all'economia del nostro paese perché probabilmente magari chi è più piccolo non pensa tanto a questo aspetto qua però ragazzi il nostro paese sta subendo uno smacco economico spaventoso secondo me è pur vero che appunto non tutta l'italia comunque attualmente proprio è bloccata però visto che c'è questo bisogno di evitare che il contagio si diffonda ovviamente tutto questo fa sì che la gente non esca di casa e quindi ragazzi che l'economia fondamentalmente si blocchi si fermi quindi non solo il campo nostro per esempio non solo il campo della ristorazione ma tutto tutto perché se comunque la gente non può uscire quelli che fisicamente devono andare a lavorare perché continuano a dire smart working ok beati quelli ragazzi che possono lavorare da casa e guadagnare uguale ma purtroppo siccome molti lavori richiedono proprio la presenza fisica per essere svolti e la gente non può uscire di casa manco per andare a lavorare e ci rendiamo conto che questo significa un problema economico non indifferente quindi io mi chiedo quando tutto questo sarà finito perché comunque prima o poi ragazzi questo dovrà finire perché ovviamente ci dovrà essere un momento in cui questa situazione comincerà a calare anche se non so quando questo ormai potrà succedere si tratta comunque di mesi quindi non di anni ovviamente però comunque mesi che possono colpire duramente l'economia del nostro paese e che la colpiranno insomma li colpi e la colpiranno sicuramente molto duramente di questo non ci stiamo rendendo tanto conto io leggo appunto tante persone che dicono ma sì dobbiamo chiudere tutti i locali è giustissimo perché per esempio in cina ragazzi hanno fatto una quarantena di un mese tutti tutti hanno chiuso tutto il paese si è fermato perché è giusto che sia così e ovviamente per far sì che la insomma che l'epidemia rallentasse il prima possibile quindi quello è giustissimo però a mio avviso per far sì che questo avvenga ragazzi ovviamente lo stato dovrebbe in qualche modo per quanto comunque è difficile ragazzi perché fermare un intero paese economicamente parlando e far sì che comunque la gente non muoia di fame sarebbe una manovra economica di miliardi di euro miliardi di euro che forse dovrebbe cacciare il nostro paese dovrebbe cacciare l'europa e questo bisogna vedere se avverrà perché eppure ragazzi le varie situazioni che sono venute a creare comunque gli italiani poi sono stati considerati riuntori di questo mondo quindi molta gente ha cominciato a guardarci pure con con odio con disprezzo quindi non so quanti aiuti arriveranno dall'europa secondo me questa grande questa ragazza è una grandissima cazzata perché nell'emergenza mo ci vuole ci si dovrebbe aiutare tutti stare adesso lì ad abitarsi a dire è stato tizio è stato caio è stato questo paese è stato quest'altro secondo me soltanto una grandissima perdita di tempo è una cosa totalmente inutile quindi nell'emergenza ci si dovrebbe aiutare tutti senza adesso stare ad entrare nel merito da dove è partito tutto questo quindi anche perché gli altri paesi piano piano ragazzi comunque stanno continuando a scoprire nuovi contagi perché principalmente penso abbiano iniziato comunque molto dopo di noi ad indagare e quindi non so se l'europa ci aiuterà se l'europa si aiuterà e quindi io la vedo un po nera ed è questo che mi preoccupa ragazzi non il virus di per sé perché appunto comunque basta avere un minimo di accortezza e rispettare appunto le minime norme igieniche ragazzi che comunque si dovrebbero rispettare sempre quindi non solo in emergenza con coronavirus per non prenderlo quindi non mi spaventi il virus di per sé ma quello che economicamente ci aspetta perché sarà dura sarà dura ragazzi per l'italia sarà un colpo durissimo per la nostra economia anche perché dovremmo vedere dopo che tutto questo sarà passato come riuscire a rialzarci di sicuro ce la faremo però sarà dura sarà dura veramente io ho paura ho paura ovviamente perché poi ognuno ragazzi pensa al proprio e ho paura di quello che potrebbe succedere probabilmente non so il ristorante i ristoranti in generale i locali saranno costretti a chiudere per un periodo di tempo e chi ci garantisce lo stipendio che sicuramente avremo guadagnato se tutto questo non fosse successo chi ce lo garantisce a noi chi lo garantisce a tutti ragazzi cioè come come dovremo campare questo che mi preoccupa e questo è il tarlo insomma che mi si è ficcato nel cervello in questi ultimi giorni ed è questa la cosa che mi preoccupa tantissimo perché magari molta gente ragazzi che già ha la casa per esempio che non paga un mutuo che non paga un affitto comunque è sicuro del tetto sopra la propria testa da un lato e quindi comunque si trova ad affrontare altre spese questo è poco ma sicuro però noi per esempio ragazzi siamo in affitto c'è molta gente che ancora sta pagando il mutuo per comprarsi la casa come si fa come faremo io penso ripeto mi auguro insomma che lo stato lo stato comunque in qualche modo dovrà affronteggiare questa cosa perché i dipendenti pubblici per esempio ragazzi ovviamente li paga lo stato quindi loro stanno a casa pure se non lavorano lo stipendio glielo assicurano a prescindere perché ovviamente è un'emergenza comunque nazionale quindi loro stanno a casa e lo stipendio lo guadagnano lo stesso per questo magari un sacco di gente tranquilla da quel punto di vista perché sono dipendenti pubblici o comunque in qualche modo sanno che lo stipendio sanno di poter lavorare la casa che quindi lo stipendio guadagnano lo stesso quindi dicono certo blocchiamo l'economia noi che cazzo ce ne frega purtroppo molta gente ragazzi è dipendente molta gente se non lavora magari gente che ne so datore di lavoro di se stessa se non lavora non guadagna cioè come dovrebbe vivere la gente questo che mi attanaglia il cervello ragazzi in questi giorni perché non penso solo a me penso anche a tante altre persone che sono per esempio la nostra stessa situazione che in questi ultimi giorni si sono visti ridotte le ore di lavoro che rischiano di essere mandati a casa ad aziende piccole attività che forse rischiano di chiudere cioè è terrificante perché se non c'è lavoro ragazzi non c'è un ingresso non ci sono soldi con cui poter pagare le spese comunque poter vivere perché se non ti puoi comprare da mangiare non puoi vivere quindi non lo so in qualche modo sì lo stato dovrà fare credo in qualche modo per sostenere le persone che guadagnano da attività che ora come ora purtroppo non possono funzionare per ragioni di sicurezza eccetera quindi tutto questo discorso ragazzi per giustificare il motivo per cui in questi ultimi giorni non sto pubblicando video perché il mio umore purtroppo ragazzi immaginerete non è dei migliori e ho paura ho paura per il lavoro soltanto non per il virus di per sé ho paura per il lavoro per quello che ci aspetta per non lo so e quindi non immaginerete che non non sono assolutamente dell'umore per cercare di registrare i video cioè la mia testa è sempre lì grosso errore probabilmente perché magari fissarsi su una cosa non serve assolutamente a niente quindi dovrei cercare appunto in ogni modo di continuare a vivere normalmente però purtroppo ragazzi ognuno affronta varie situazioni a modo suo insomma come sente di affrontarle io spero insomma di boh riuscire magari a risollevare un pochettino il mio umore e quindi immaginerete magari ragazzi che non vi assicuro che in questi altri giorni pubblicherò video vi prometto che ci proverò ci proverò con tutta me stessa non possiamo fare altro che aspettare purtroppo ragazzi perché ovviamente i prossimi tipo dieci giorni le prossime due settimane sono decisive per vedere insomma se raggiungiamo sto benedetto picco e poi cominciare a calare vedere se piano piano la situazione comincerà a decrescere e come sta succedendo per adesso per adesso per esempio in cina e però lì ragazzi le modalità sono state un pochettino diverse anche perché dobbiamo dire purtroppo io adesso non voglio entrare ragazzi nel merito delle decisioni che il governo ha preso perché ovviamente poi ci saranno sempre i soliti sapientoni che vengono magari a smentire quello che dico o farmi lezioncine che sinceramente non mi voglio stare a sentire per cui secondo me in italia abbiamo sbagliato le modalità dovevano essere diverse dall'inizio ragazzi da subito a mio avviso perché si doveva contenere in un altro modo da subito in maniera più ferrea da subito come hanno fatto in cina ragazzi in cina si sono messi in quarantena tutti cioè tutti nessuno usciva di casa capite si è bloccato tutto è vero l'economia ha subito un grosso colpo ma già a distanza di un mese insomma hanno cominciato a vedere i primi miglioramenti perlomeno e quindi è stata la mossa migliore in italia purtroppo questo non è avvenuto perché si è considerato di tenere tutto tutto sotto controllo senza evitare che la gente continuasse a spostarsi quindi da dai luoghi che inizialmente erano interessati e quindi questo ha fatto sì che ovviamente la gente portasse il virus dappertutto ragazzi e quindi questo ha reso e renderà la nostra situazione qua in italia sicuramente più complicata e questa ce la siamo cercati noi ragazzi anche perché decreto per bloccare insomma le zone rosse è arrivato secondo me con estremo ritardo e tra l'altro la gente ha ben pensato di prendere questo decreto insomma di blocco come motivo per andarsene via e quindi io non mi sento di giudicare per l'amore del cielo ragazzi però noi italiani come sempre un minimo dobbiamo farci riconoscere perché non c'è non c'è stato dall'inizio ragazzi un minimo senso di responsabilità da parte di alcune persone non dico che tutti gli italiani siano così però molte persone ragazzi hanno mostrato il massimo menefreghismo dall'inizio è pur vero che probabilmente ci hanno dipinto questo virus peggiore di quello che è però l'importanza era non diffondere il contagio dall'inizio ragazzi quindi quella era la cosa importante ma non tanto per la pericolosità del virus di per sé ma anche pensando ragazzi al nostro sistema sanitario nazionale che purtroppo negli anni scorsi ha subito netti tagli tanti ospedali sono stati chiusi tanto personale medico è stato licenziato ragazzi è mandato a casa e quindi il nostro sistema sanitario nazionale non è totalmente in grado anzi forse non è in grado in generale di poter sorreggere una situazione di emergenza di una portata enorme quindi era importante dall'inizio contenere il contagio per questo motivo anche ragazzi perché gli ospedali sono quello che sono i posti in terapia intensiva sono quelli che sono al sud soprattutto ragazzi lasciamo perdere quindi la gente avrebbe dovuto dimostrare un minimo senso di responsabilità per questi motivi quindi non perché dice non c'ho paura del virus faccio il cazzo che voglio ci potrebbe pure stare ma la gente non ha pensato a questi altri aspetti ragazzi al collasso del nostro sistema sanitario nazionale e al collasso della nostra economia non hanno pensato a questo e questo penso sia un comportamento assolutamente irresponsabile e incivile fondamentalmente quindi sta gente penso dovrebbe tranquillamente vergognarsi per il resto mi auguro che quelli che hanno avuto la brillante idea di andarsene dal nord italia appena prima dell'approvazione del decreto abbiano un minimo di decenza di restarsene a casa per almeno due settimane onde evitare appunto ulteriori contagi anche se ormai appunto nei giorni scorsi ragazzi come la gente ha viaggiato dal nord a sud tranquillamente fottendosene delle misure di sicurezza hanno infettato tutta l'italia per questo che troviamo nuovi casi ogni giorno ragazzi perché se nessuno si fosse mosso dal nord fin dall'inizio il resto dell'italia non sarebbe stata contagiato e quindi il punto fondamentale è questo che secondo me hanno sbagliato le misure dall'inizio e le persone sono state irresponsabili incivili sin dall'inizio e quindi adesso ci becchiamo quello che ci meritiamo ragazzi anche se mi dispiace appunto invece per tutta quell'altra gente che un minimo senso di civiltà di responsabilità ce l'ha e che adesso appunto si ritrova nella merda per colpa invece della gente irresponsabile e incivile per cui l'unica cosa che possiamo sperare ragazzi è che le misure di contenimento un minimo abbiano funzionato anche se appunto per i problemi insomma appena citati ho un pochettino di dubbi quindi insomma nei prossimi giorni quelli che dovrebbero essere decisivi si comincino a vedere degli spiragli di luce anche se non lo so non lo so ragazzi non siamo nessuno per dirlo nemmeno gli esperti sanno cosa aspettarsi quindi dobbiamo soltanto sperare che la cosa si risolva insomma comincia a risolversi perlomeno nel minore tempo possibile per l'italia comunque per il nostro paese abbiamo uno dei paesi più belli del mondo ragazzi e come sempre dobbiamo dimenticarcene niente io spero ragazzi di non avervi tipo depresso però mi sentivo insomma di parlare con voi di di questa questione condividere con voi la mia vera preoccupazione e appunto di spiegarvi perché non sto pubblicando video in questi giorni e perché probabilmente non ne pubblicherò nei prossimi in ogni caso aspetto ovviamente i vostri pareri a riguardo e cerchiamo ragazzi di restare uniti il più possibile anche se a distanza minima di un metro ci vuole però cerchiamo insomma di dimostrare anche perché il resto del mondo ragazzi si è preso gioco di noi e insomma si sono sentiti liberi comunque di additarci in tutte le maniere possibili immaginabili di prenderci in giro di considerarci comunque delle merde per cui cerchiamo di restare unite il più possibile cerchiamo di seguire per carità del cielo ragazzi il più possibile le norme che ci vengono imposte perché soltanto così ne possiamo uscire e chi sta più in alto di noi per quanto magari prenda provvedimenti che non ci piacciono ragazzi sanno tante cose magari che noi non sappiamo per cui cerchiamo di attenerci alle norme che ci vengono date di fare quello che ci viene detto nella migliore maniera possibile senza stare sempre lì a lamentarci a lamentarci facciamo quello che ci viene detto punto perché se non facciamo così ragazzi da questa situazione non se ne esce non se ne esce tanto presto per cui soltanto attenendoci alle regole che ci vengono date possiamo far sì che tutto questo finisca il prima possibile per cui mi raccomando ragazzi le norme igieniche mi raccomando mo ci vuole cerchiamo insomma cercate di restare in casa il più possibile non affollatevi cose che ho visto ragazzi in giro veramente indecenti che la gente ha preso la chiusura delle scuole dell'università come vacanze insomma come buona come buona scusa per andare in giro o come buona scusa per andare a vedere i vip dal vivo ragazzi lasciamo perdere che visto è venuta retta Lamborghini a Montesilvano c'era una folla piena di ragazzini tra l'altro infinita e quindi è questo che mi fa incazzare ragazzi della gente perché non veramente non si prende sul serio la situazione e poi però si lamentano hanno rotto il cazzo affinché le scuole si chiudessero poi le scuole si chiudono e non seguono lezioni online insomma una vacanza non è una cazzo di vacanza ragazzi è un disastro economico spaventoso nazionale e mettetevelo in testa per cui tutti quanti dobbiamo collaborare per far sì che questa cosa finisca il primo possibile questo dipende solo ed unicamente da noi ragazzi dalle singole persone dal comportamento di ogni singola persona per cui ripeto facciamo quello che ci viene detto di fare per favore seguiamo le regole stete va la casa ma ve lo dico in abruzzese come già altre persone hanno detto stete va la casa stiamo in casa e cerchiamo di far sì che questo benedetto virus non trovi più organismi a cui afferrarsi perché se non trova più organismi a cui afferrarsi ragazzi dopo un po il virus in ogni persona muore viene debellato e sta storia finisce e questo è il punto della questione ecco perché bisogna restare in casa ragazzi per evitare di dare ulteriore campo libero a sto cazzo di virus quindi stete va alla casa stiamo a casa forza e coraggio prima o poi sta cosa finirà dovremo uscirne sarà dura probabilmente ma mi auguro insomma che per una volta ragazzi gli italiani dimostrino di poter uscire a testa alta insomma da una situazione disastrosa insomma di emergenza niente questo video termina qui grazie a tutti scusate per l'immensa durata del video ma ho detto quello che mi passava per la testa io vi mando un saluto un bacione comunque ragazzi ci aggiorniamo sui social niente stiamo uniti grazie a tutti